Si è un po' di assi ce l'ho anch'io eh Stasera non andiamo a raccogliere i gamberetti Uno ready Quattro? Lo sei messo? Rivaccio allineamento veloce a due minuti Iniziamo ad andare in catapulta? No no, quattro, quattro Scusami Ok io vado alla catapulta, tre Ricordatevi che tre e quattro non potete andare insieme Se no si bugga tutto Si ci ammazziamo di brutti Esatto esplodiamo malissimo Qua c'è il parcheggiatore abusivo e mi dice Oh frate ma guarda che ti devi allineare Aperte le alis, sei bravo Dagger uno uno check in Non ci si sente press Io ho sentito Eh si? Eh Mi hai regolato il volume Si Si Ok Aspettiamo agganciati che spawnino gli altri o? Si direi di si Chi è di voi che tiene gli altri zuni? Io No Tieni lì in single e non tenerli in salvo Fai come preferisci No no single Ricordati solo che in salvo spara tutto finchè non Ma hai già dato il launch? Dobbiamo magari liberare il catapulto Arretto Diamoci Un circa trenta secondi di distacco dal primo gruppo al secondo Quindi tipo Anche tra il primo e il secondo Chi sgancia le bombe deve avere Un 10-20 secondi di vantaggio perché sennò la bomba impatta proprio quando spara tira Si Quindi il consiglio è Apre il gruppo Apre il gruppo Quelli con le bombe Noi partiamo per primi Contate fino a 20 Poi aprite al massimo Andiamo militari power al massimo Quando siamo laggiù I tanconi appena finiti si sganciano come al solito Perchè sennò C'è lo strobo acceso E allora è Venom che c'ha lo strobo acceso No niente c'è Vedo che fa plim plim Posso fare L? Non lo so io In basso a sinistra sotto la cloche Cioè sotto il... No quelle sono le manette In realtà c'è uno switch tutto a sinistra di voi Che non vedete Si che è impossibile da vedere Esatto Ah beh ho fatto L e le spegno in automatico Ho provato a fare l'ulte F4 Vedete cosa succede Eh si Diverse volte Sblocchi l'F22 Questa è la sinistra Lasciamo Aligned Rejoining Left Dagger 1 Non c'è niente F Si Dagger qui Falcon Percivo inizio Riturato Riturato Sblocchi l'H7 Voto Riturato C'è l'H7 L'H7 In attesa di abbassare su di quota Per Ingatto Insegno Riturato Volo tag Standby Il boss Riturato 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 facciamo stand by ma io stavo solo chiedendo perché questo è carburante per tornare a casa noi esatto poi 8 9 ne facciamo 7 8 9 e ci rincrociamo cioè facciamo praticamente il circuito 1 destra lato sinistra ci ricongiungiamo al 7 possibilmente ok così c'era scritto sul briefing perlomeno quello jaguar potete andare in bounce voi poi tra diretti ma che bello quando c'è il ventilatore che si fa me l'ha acciolato mia moglie vaffanculo sta bene così impariamo a comprarne due lo sai che sono tirchio io costa 25 euro letteralmente l'ho comprato no no l'abbiamo comprato al mercatino dell'usato a ben 10 euro la vita di quattro ore proprio no no sta funzionando l'abbiamo dovuto pulire che era merdato ma per mettersi uno schifo che è rimasto a casa di non si sa bene chi per magari soffia varia soffia varia su una vecchia che stava abbiamo rispondato 15 euro la mia vita io mi sento soddisfatto chi è che hai chiamato avanti volutaker volutaker falconia vede un 1v per waypoint abbiamo un go ha detto abbiamo un go si un pochiamo un go iniziamo fuori adesso passo abbiamo fatto dagger lì sul volo falcon sta il volo jaguar sta raggiungendo la pulizia disattivo il balt e mi butto giù di quota eh ok tieni ancora la tc? no però cerco di tenere la velocità statica porca cosa facciamo sto io davanti e poi tu al waypoint 7 mi superi Ale? noo facciamo che entrare così secchi cioè facciamo che entrare già quelle bombe davanti tanto la conosco la strada mandi ti passa avanti ti passa avanti quindi voi io e te piuttosto facciamo questo io davanti si tenere la velocità da tenere io adesso vado giù e poi te lo dico ti conviene misù ti conviene mettere la mappa a tipo 10 miglia così vedi vedi dove devi proprio girare nelle vallate Volo jaguar di falcon su waypoint 3 di dedo iniziate convertura ricevuto falcon ok voi siete già dentro? andato 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 aprite aprite ok apriamo apriamo vai vai military power al massimo andiamo ok accederò military power accederò military power accederò military power perfetto diciamo di fare la cavolata di pigliare le piante prima del primo waypoint no eh è infatti è tenuto non è che è così che 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 sono inizio non è che comunque mi Militari al massimo proprio Price? Sì, sì, ti sento Stavo guardando dove cazzo eri Andiamo Militari al massimo Sì, fai così Non ho selezionato auto Non mi capisco Non mi devo ricordare di mettere la bomba La wii point giusto Donna, siamo già sotto i SA3 Questi non c'erano 088, vuoi che rallento? Sì, sto facendo il 081 Io ho un sacco di drag in più Tu dimmelo No, no Vengo 080, dai Certo, ci sarei basso ma non voglio esagerare Mi sa la TC Ok Vedi il bianco? Ah, è il solito lock Quello lock è la sua Bulldog hacker di 5.9 Price, ti chiamo Avanti Vulldog hacker Voi vi confermate Siete una strike Sì, siamo una strike Ma vanno a distruggire l'idea Price, ho sbagliato vallone Spollina è sciuto Vulldog hacker Se la situazione si fa calda Guarda, era qua a sinistra Siamo bassissimi di quota Quindi, tirare la parola Non ce l'ho ancora visitata Passo Ricevuto, se qualcosa non va Tornate in giro Qualcosa non va Non torna indietro Grazie che torna indietro Se qualcosa non va Non c'è copertura 6 Sono stato agganciato Sì, tranquillo, è normale Ricevuto, si è retone Vabbè, è uguale raga Infanto, scollinate poi più avanti Sì Ok, qui ma Falcon 9, volo Toxic Two ships Appirate i soldi dalla Washington Non torna a casa Manco per i fatti Ok, scolliniamo qua Stai basso, basso Buongiorno Toxic Mi... Falcon 9 E' passato lui prima Poi, non certo Passatevi al vostro waypoint Io sono nella valle corretta A posto Waypoint 1 Sono Urto Però so dove... Dove sei Vai, spingi Ale Sono 086 Ok Davanti e dietro Non ti vedo Dal set 2.13 E devi andare a sinistra Falcon 9 Non ne sei inseriti nelle pettine Senti, ti conviene puntare già al 12 Sì, fai il 10 per il 12 Sì, fai il 10 per il 12 Confermiamo Urto Toxic Sì, fai il 10 per il 12 Noi ci ha un 10 per il 12 Di San Julio Sì, fai il 12 7 HQ 7 Ok, quello è elettrotico Ok, via il 12 Ah, lo so Oh, mi sta lagghiamo un po' di frame la curva destra la locca no sempre sono dei maledetti sei risata se piglio una montagna stavo pensando la stessa cosa sei? ci sono ci sono spike te l'ho detto ma le cazzo è la vallata testa o sinistra? sinistra si si vai a sinistra tu tieni la sinistra loro al massimo prendono quella testa no no è questa è questa è questa mi sa avanti gira non spero si si è questa che c'ha la curva stretta devo forzare pure il coso eh fly contro è vale signor ok gruppo 1 siamo quasi a 2.6 quindi dal 7 poi ci stacchiamo siamo a 12.2 poi in 6 appena arrivati al 5 ok perfetto volo jaguar spostatevi 30 miglia a sud ovest della vostra posizione 30 miglia a sud ovest dicevo abbiamo andato a destra si dopo questa collina la vedi? si la vedo ok qua a destra no ha rotto le ali porca puttana ma come hai rotto le ali? qui ho fatto di ha rotto le ali eh si prova a farlo da solo ste hai tirato le... eh per forza eh? hai tirato con l'emergency no ho tirato normale minchi eh ho tirato normale eh te eh comunica Price eh vabbè è Alania mi ricordo che abbiamo perso l'elemento per... 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 proviamo a farlo in tempo stesso passo dannate carrette proseguitemi mi dispiace ragazzi eh no c'è un problema mi approvi non ero pronto per la missione ah vabbè finire sono qui no guarda che capita davvero no lo so va bene dai buon volo grazie ciao ciao guarda mi segna un lock c'è qualcuno che sta loccando a sinistra a destra sei tu che stai loccando a destra no 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 sono io che ho messo il... weapon designate sul coso e il radar sta cercando di inquadrare il punto ok quello è il 12 quello la quello è il 12 si weapon designate ok vai Ale vai 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 che devo mollare la manetta eh vado... ah per il posto eh sgancio io sgancio tranquone ma io ce l'ho ancora giro per... giro vai 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 piano perché sennò lo spacco pure io si prendetela con calmia eh ti ho preso cacchina adesso eh eh si mi sono visto le fiamme dietro ho detto nooo vedo la torre eh anche io lancia lancia secondo me ci sei già in range eh non mi segna in range allora ricordati di subito chiudi post e chaff... e flera eh si si pacca troia ho sbagliato c'è un altro giro Price my bad e se non c'è un WI-58 quasi eh vai tranquillo io... boia 1 dagger fibro toxic radio check 245 ho problemi con queste cazzo di cose wow attenzione te l'ho chiamato Price avanti con un dagger abbiamo fatto l'obiettube passo tutto quanto è spaccato? eh sì credo di sì credo e non lo so ho sentito l'onda d'urto che mi ha spostato ok ci sono arriva tiro vai 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 se faccio il giro ancora 9 razzi io posso fare ancora una... ok allora ci incrociamo mi sa io sono quasi lì sto andando verso il 9 ora vai ruota per la vostra azione in vista possibile 4 3 2 1 in range ma devo andare su ok ci sono ci sono ci sono guardate mio giro stretto eh non credo che arrivi ma no non è vero piglielo di qui 245 è a copp comunicato la dagger in questo momento è stato sta operando sui ultimi in missioni entanto proseguita verso sud eh ruota 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 Scusate, non ho copiato la comunicazione perchè stiamo migliorando i versali. Falcon Eye e Brutossi che iniziamo il loading su 2.2. Dicevuto. Falcon Eye e Voodoo. Strut. Ho fatto l'altra, ho fatto l'altra. Grande! Torniamo indietro? Via, via, via! Riffaccio il giro a 13, 7 e avanti così. Esatto. Io sono al 7. Proseguite waypoint, non iniziate. Vai, vai, usci la waypoint 1, facciamo rigenerare waypoint 1. Voodoo. Gruppo dagger, obiettivo completato. Passo, se lo mettiamo indietro. Dicevuto, volo attacker, rientrata alla pace. Oh cazzo di trackhead, voglia di tt. Che l'hai fatta? Sei riuscito a... Una sganciata mi ha segnato danni, però non so se è esploso. Cioè nel senso, danni... Danni strutturali alle armi? No no no, danni al mezzo. Cioè con la roba che ho sganciato. Esploso. Ah ok. Eh, è una bomba colpito, però non... Io avevo due... Ancora due razzi, quattro razzi credo li ho lanciati eh. E sono sicuro di averli distrutti comunque le guerre li ho visti esplodere, quindi... Sì. Sì, tanto sono in... Se prendono danni non vanno più in cazzo. No no, ma io li ho proprio visti esplodere dalla cupola. Cioè... Si studisce l'acqua. Ho sentito anche l'onda d'urto che mi ha spostato l'aereo, però... Sgancio i tanconi. Io ne ho ancora. Anche io sono 9,5. 9,5 i tanconi sono fuori già. No no no, i tanconi li ho tirati fuori già da un po' io. Volevo essere le... Sono 10 e 9, sta per sganciarli ora. Quindi stai per... Quindi stai ce la fa? Eh... Sì, ma... Per festeggiare devi fare uno i refueling. Ma... Devo tornare a casa con la bomba o... O se la prendono? No, sgancia, sgancia. Se sei storto sganciala. Che... Non si vede ritorno a esplosione a casa, così. Come non è esploso? Sì, sì, confermo che sono distrutti di due WR, vedo le fiamme. Ok. Ehm... Due waypoint quattro. Allora vado per il waypoint quattro. Oh no, vedo due pack FA. Allora a me... Rallento un po', eh. Rallento un po', eh. Rallento un po' e me la pio un po' con calma. Intanto... C'è più da correre. Questo bello bassi me la pio con calma. Ma figa, mi son dimenticato... Ho fatto tutto. L'unica roba che mi son dimenticato è passare da preplan negati o... Quindi sono andato su e dicevo, ma... Ma questo coglione non mi dice quando devo sganciare? E poi ho guardato. Ho fatto letteralmente tutto. E poi c'è il tracchette che sbabbia e si alza la testa. Tipo... Vedrai poi in live che si può. Ma che fa sbabbia? Si si sbabbia. Tipo guardi in alto e inizi a impazzire e fa... A caso. L'ha fatta anche a me prima eh. Qualcora è a Vortoxic che non rileviamo stanno... No no ma io sto cazzo di problema che ho... Guarda qua. Mi sapevo... Vortoxic... A rimanente in attesa potrebbero attivarsi mentre tagga niente. Infatti me lo sto spostando e me lo ricordo qua. Questo è il holding Vortoxic. No, non lo piglia. Non si sa che cazzo di problemi ha stasera. Mi ne frega niente. Stai basso. Ecco adesso lo piglia. Ma vattene a morire ammazzato va. Sto cesso va. Telecamera PlayStation 3. Devono mettere... Figa eh. La telecamera del Game Boy Color. Quella che faceva le foto in bianco e nero. Bellissima. Cazzo la vorrei però. Giusto per averla. La stampante del Game Boy Color. Si la stampante del Game Boy Color. Si si si. Porca puttana va. Me e la mia povertà. F... Nigel va. Salutiamo Mick che ha scritto prima tra l'altro eh. Ah ciao Mick scusa. Eravamo un po' presi dal... No non riesco a leggere la chat perché sennò mi schianto duro. Sai com'è? No non riesco a leggere. Io ho giusto perso le modalità di aria eh. Stamai. Non so cosa sia la modalità di aria. Non me l'hanno inserita. Ma? No. Pugno in testa. Però. Volo Tossic è qui Falcon Eye. Avete in pista. Segnale radar. No liar. Falcon Eye 1. 1 2 qui Falcon Eye avanti. Per informazione pop up dalla nostra posizione. Toffili. 1-2ing. 0. Per tutti. Guarda. 8-2ing Atten. Maglo. Adesso piglia tutti gli assi sto cesso di merda. L'ho nosso di un millimetro. Capito. Polare, cazzo. 1-2ing. 1-3ing. Mila a piedi rilevo AWACS e NEMIT BROCKBRECK BOLUGUTOS Aspetta attenti Ho appena rilevato sul radar dei Versailles 229 Non so cosa sono Sono dei PAC FA Adesso noi verremo abbattuti Dovemmo ritornare un F14 E ridecollare con l'F14 Ah si? Io gli ho detto a Steph Io su 57 Non se lo trovo dentro un hangat Voi pigliate il 14 E poi è il 57 Tra qual è che volo Jaguar Due contatti in pista Di direzione 1 E ti assicuro voi? No No ancora no Se non vuoi poi il 6 Sto tornando indietro Ma io non vi vedo sul... Morto Ero in mezzo alle montagne Come cazzo fai a vederli? Morto Morto Come sei morto? Morto Come sei morto? Morto Rushed Vabbè Oh merda Engine over speed Come engine over speed? Cosa vuol dire? Vuol dire che ho fatto girare le turbine Troppo veloce rispetto alla velocità che stavo andando Se ero a Mach 1,5 Bravo Che è successo? Ti ha colpito? Missile Non so di cosa Crash Secondo me hai fatto over speed dei motori Oh no? Ma va sta andando a 0,40 Poco poco più avanti eh Guardami lì Hai visto? Qua mi hanno alloccato Mi è arrivato un missile Stai ci affando pure tu? A caso? A caso Io ho fatto la tua stessa manovra Mi è arrivato un missile Sono morto Ah è l'HQ-7 forse? Secondo me no No Non hai sentito track? No Cioè ha fatto tipo Pochi secondi E poi sono morto Sono morto Non so dove Ma Stefano? Non lo so Io sono salvo Verso 2.4 Oh Non lo so Poi vedrò il tacco io Che cazzo è successo Mi è arrivato letteralmente un lock da 3 secondi Eh due voli in aria da sud Dagger 1.1 Io sono già in aria sicura Sono dietro alla scorta dei nostri caccia Sono in salita a 6.000 piedi passo Fantastico Ho ricevuto Io resto qua in holding E nel caso di switch area Ancora 2.120 passo Eh niente Sei morto sei? Sì Come? Non lo so Ma ti hanno lockato? No Perché non ne ha colpito lo stesso Peccato che non è per lui Vabbè ma non gli serve niente Ma il nostro awax arriva Guarda come si butta giù l'awax Bene Stiamo facendo... Oh shit Vediamo sono hit Secondo me si Guarda che gli stanno andando giusto 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 Oh shit All'evento Chef 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 Preso Boom Awax down Guarda che si buttano quel paracadutino Guarda lì Tutti così Ma di cazzo ce ne stanno dentro? Eh tipo 30 C'è un casino dentro Adesso gli arrivano degli SM2 ma non gli fanno un cazzo Sta arrivando Mad Secondo me lo piglia su F16 Mad si Ha tirato Si 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 li ha tirato lo piglia in piedi Ah quella distanza lì non... Madonna sarà stato 8000 neanche Vediamo vediamo Sto guardando diretta Flash Boom Flash Si chiama Broken No no L'hai preso L'ha preso L'ha preso L'ha preso L'ha preso Si è frizzato il gioco Si è frizzato il gioco Che paurissima Ho detto no Eh boh Eh niente Di 4 ne torniamo... Ne è tornato uno La missione è normale È tornato il più fortunato L'unico che ha preso quel waypoint nel modo più sbagliato di tutti E non è stato sparato Sopravvissuto esatto Cioè letteralmente non ha senso Però... Va bene così E niente Suma che sta Kuma Suma che sta Kuma e ciao a tutti Suma che sta Kuma e buona serata a tutti quanti